Buon pomeriggio, sono Daniele Abbado e non potendo essere presente di persona a questo incontro cui tengo moltissimo, ho dovuto registrare questo breve messaggio. Mi spiace non essere presente all'inaugurazione di Made in Corvetto presso un istituto tecnico che si apre alla musica, di non essere insieme agli amici del sistema Song Lombardia e personalmente un ringraziamento e un abbraccio a Pietro Mianiti che è presente oggi. Ho avuto la fortuna di conoscere José Antonio Abreu diversi anni fa e ho avuto l'occasione, la fortuna di invitarlo a Reggio Emilia quando dirigevo il teatro lì nel 2007 e di trascorrere alcune giornate indimenticabili con José Antonio e con i ragazzi dell'orchestra Simon Bolivar. Ora so che verranno mostrate alcune immagini relative a delle interviste in cui questo piccolo uomo racconta, espone le linee guida, dei pensieri che l'hanno guidato nella formulazione, nella costituzione del sistema dell'orchestra giovanili e infantili e dei cori. Il pensiero che sta alla base di tutta questa meravigliosa impresa è un pensiero importantissimo e credo che José Antonio Abreu sia una figura gigantesca nel panorama culturale, musicale, sociale, filosofico degli ultimi decenni. Non credo sia possibile o sensato ripetere con parole mie le parole di Abreu che sono bellissime, rischierei di rovinarle. Rifaccio solamente un percorso tra due o tre punti del suo pensiero. Prima di tutto non credo sia stata mai riformulata un'idea così alta, così profonda del significato di un'orchestra come organismo, organismo umano, sociale, etico, artistico, spirituale. Alla base di tutto questo c'è la convinzione di Abreu, magnifica che niente come la musica abbia un portato, una forza morale utile, indispensabile alla società. Su una cosa metterei l'attenzione. Nel sistema pensato da Abreu c'è una trasmissione di saperi interna. I bambini, i giovani vengono portati nell'orchestra e viene offerta dignità attraverso l'istruzione, l'educazione e la condivisione e la comprensione reciproca. C'è un passaggio meraviglioso che è quello per cui una volta che il bambino cresce, acquisisce capacità, diventa immediatamente dopo responsabile per i più piccoli, che entrano, che entreranno, che arriveranno. C'è quindi una forma di responsabilità collettiva, individuale e collettiva e la ricerca della perfezione, dell'eccellenza è al tempo stesso sia collettiva dell'orchestra che di ogni individuo presente nell'orchestra. Questo è meraviglioso, è una prassi fantastica che ha dato dei grandissimi risultati e che dovremmo seguire e sono felice di essere con persone che a questo modello si ispirano e lo rendono vivo ogni giorno. Grazie. 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 Grazie.